World Business Forum 2012, uno dei principali eventi mondiali dedicati al futuro del business. All'appuntamento milanese, ancora una volta, noi c'eravamo. E con noi anche i nostri clienti. Poter partecipare a un evento del genere, grazie a Miglioranum, è un servizio enorme che questa banca sta offrendo. È sicuramente un modo intelligente per essere accanto non solo a dei clienti, ma a degli imprenditori che hanno voglia di capire, hanno bisogno di capire come affrontare i prossimi anni. Le banche tradizionali oggi ci cacciano. Se c'è una banca che invece ha ancora qualcosa da proporre, direi che noi siamo tutti pronti. Servono banche innovative come ad esempio Miglioranum, cioè banche che abbiano una visione di futuro e non una visione di passato. È unico, è veramente una banca diversa. Per loro un trattamento da VIP e un incontro esclusivo con il guru del marketing Philip Kotler. Due giornate di stimoli e riflessioni da condividere con il proprio family banker. Si è creato veramente un rapporto che non c'era prima in questo senso. Al di là del numero, del tasso di interesse che puoi avere su un conto deposito o sul conto corrente, il rapporto personale va al di là di ogni altra cosa. Un rapporto fatto di attenzioni che crescono giorno per giorno. Le notizie cambiano minuto per minuto, soprattutto nel campo della finanza. Avere una persona di cui abbiamo fiducia e di cui sappiamo di poterci fidare, ci dà forse una garanzia che altrimenti non potremmo avere. Oltre, diciamo, dal punto di vista finanziario, si cerca di installare anche un rapporto umano con le persone, cosa che apprezzo parecchio. C'è un rapporto molto familiare col promotore, quindi ti chiama, ti sta dietro. Non è una figura austera e distaccata, quindi ti dà molta fiducia. Ero a tavolo con Doris prima e mi ha ribadito proprio questo concetto, che lui cerca di capire che cosa ha bisogno della gente. Proprio come lo disegna lui nella pubblicità, mi sento un cliente al centro. L'ennesima occasione per crescere, imparare e diventare migliori, insieme.